Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Un malinteso in cucina provoca le prime incomprensioni tra Luca e Cristina. A quasi 24 ore dal loro ingresso, in casa nascono subito le prime incomprensioni. I protagonisti del primo screzio vis-a-vis di questa edizione sono Cristina Quaranta e Luca Salatino. Il motivo? La cucina! Dopo essersi messo a disposizione per preparare la cena a tutti, Luca non nasconde un certo risentimento nei confronti di Cristina la quale, con un commento non troppo gradito, lo ha ripreso per voler mischiare insieme avanzi di pasta senza glutine e non. Era solo per dire che non si mette il glutine con il senza glutine dice Cristina per giustificarsi e scusarsi con Luca. Ci siamo capiti male. Luca, però, non sembra del tutto disposto ad archiviare la questione in modo pacifico, fate come ve pare, io non sono il capo di niente sbotta, alquanto offeso dalla questione. Poco dopo, in giardino, si continua a discutere della breve incomprensione tra i due. Luca racconta ad Alberto e Patrizia quanto accaduto e Patrizia, nel tentativo di calmare le acque tra i due cerca di fare da mediatrice. Magari non te l'ha detto con cattiveria. Non voleva essere offensivo a ferma, riferendosi alla critica di Cristina rivolta a Luca. La conduttrice continua a dire la sua sulle discussioni che nascono in casa. Secondo lei, ciò che conta è parlare sempre con il diretto interessato e chiarire ogni fraintendimento con maturità e onestà. Preferisco avere un confronto diretto ribatte Luca, dichiarando di essere d'accordo con lei. Poco dopo proprio Cristina si aggiunge al gruppetto ristretto e cerca nuovamente un confronto con Luca il quale non sembra affatto intenzionato a fare un passo indietro.